Lei è di Torino? So, abito a Torino ma non so di Torino Neanche a chi è? Ma lei è di in età Ma lei lo sapeva che il cioccolato, visto che sta comprando il cioccolato, il cioccolato fa bene al cervello? Lo so È una statistica A nera Ecco, brava signora, il cioccolato fa bene al cervello e lei mangia il cioccolato, giusto? Ogni tanto qualche cioccolatino viaggio Brava, il cioccolato fa bene al cervello To, mangiane uno, mangia, mangia Mangia